Per noi è una festa proprio di comunità, mettere insieme tutte le associazioni del comune per realizzare questo momento di festa e di preparazione dello spiedo gigante. Oggi siamo arrivati al momento clou di questa manifestazione dopo un mese di festeggiamenti, un mese che sono stati veramente impegnativi perché abbiamo dato prova e abbiamo ospitato con la nostra gentilezza, con il nostro territorio, abbiamo ospitato i mondiali di gravel, quindi abbiamo avuto anche un positivo riscontro da parte di tutti i ciclisti di quanto belle siano le nostre colline da un lato, ma quanto bravo vi siano i nostri cuochi e le nostre prolocco. Un grazie particolare di cuore a tutti i volontari che si sono spesi e che hanno accettato questa grande sfida e soprattutto un grazie per aver portato avanti questa importante tradizione dello spiedo gigante e anche del tiro alla fune.